Figli e figli, vi chiedo di andare a cercare non l'uno, ma quelle migliaia che ci siamo persi lungo il percorso, forse per la nostra visione clericale, forse perché non abbiamo dato abbastanza segno, forse perché non ci hanno preso sul serio o non ci siamo fatti prendere sul serio. Questo è il forte invito lanciato dall'arcivescovo Riccardo Fontana nella cattedrale di Arezzo in occasione della celebrazione per il mandato ai catechisti arrivati dalle 21 aree pastorali della diocesi. Siamo mandati a portare un lieto annunzio, una menzione che la cultura evangelica attribuisce agli angeli e mi piace vedere nei vostri volti gli angeli della chiesa aretina cortonese vituurgenze. I catechisti, ha sottolineato l'arcivescovo, non sono solo l'aiuto del prete, ma l'aiuto a Gesù Cristo, un vero e proprio ministero laicale che insieme ai diaconi e ai ministri straordinari, alle caritas e alla pastorale familiare, anticipano un percorso che appartiene all'intera chiesa diocesana. Se si tratta di tenere pulite le chiese c'è un esercito di collaboratori, se si tratta di tenere pulite l'anime o ce la date una mano?